Un milione di euro per i comuni delle aree interne e quanto annunciato dall'assessore Pietro Quaresimale per ridurre il gap tra la costa e la montagna. I comuni interni infatti soffrono innanzitutto lo spopolamento, i giovani tendono a lasciare i piccoli paesi alla ricerca altrove di maggiori possibilità economiche e sociali e i problemi dei piccoli centri si sono acuiti nel corso della pandemia. E' un fondo regionale per la montagna di un milione di euro che ho voluto fortemente insieme alla giunta regionale per cercare di attenuare il divario con i grossi centri. Destinatari di questi fondi sono i comuni montani, le comunità montane, l'Unione dei Comuni, praticamente finanzieranno una serie di iniziative che vanno appunto dall'attività commerciale e artigianale in questi centri dell'entroterra e della montagna ma anche dei benefici a chi vuole acquistare casa in questi comuni montani per coloro che faranno iniziative per abbattere le barriere architettoniche. Sappiamo benissimo che tanti enti pubblici non hanno la possibilità di far accedere disabile. Noi vogliamo sicuramente agevolare questa cosa ma anche un servizio di informazione e formazione per il post-covid. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso con tutti i dettagli tramite cui i comuni potranno accedere al bando regionale presentando il proprio progetto. Potranno ricevere il finanziamento i comuni con un tetto massimo di 10.000 abitanti a meno che alcuni comuni non scelgano di accedere al bando unitariamente presentando un progetto condiviso. I tempi burocratici di erogazione dei fondi però non sono ancora certi. Sulla tempistica è sempre difficile perché se uno presenta una domanda dopodiché è necessaria un'integrazione documentale purtroppo non sempre dipende dalla Commissione o dalla Regione. Purtroppo sono dei fondi che vanno comunque sempre rendicondati perché parliamo di soldi pubblici e quindi comunque vanno valutati attentamente i progetti e quindi sulla tempistica precisa non le posso dire chiaramente un termine certo.